Assoverato dopo la vicenda dell'aggressione a Abbiuti, parte la caccia alle streghe al corunanime di condanna alle violenze subite e si accosta a quello degli imprenditori balneari che chiedono di non ritrarre la cittadina come un luogo di sfruttamento di lavoro e di schiavitù. Il sindaco di Soverato, Daniele Vacca, ha scelto certamente da che parte stare. Ha dichiarato che qualora si arrivasse al processo per l'aggressione della donna nigeriana, il comune sarà certamente parte civile. Ha accertato che il merito sarà chiarito ovviamente dagli investigatori e dalla Procura della Repubblica che ha aperto un'indagine. I titolari degli altri stabilimenti balneari non accettano che sia generalizzato il giudizio che riguarda tutti e naturalmente dicono non possiamo accettare che l'ambiente lavorativo di Soverato venga caratterizzato come quello di solo sfruttamento del lavoro. Ovviamente ci saranno le indagini che sono già partite da parte dei carabinieri della compagnia locale di Soverato e anche dalle altre forze dell'ordine presenti sul territorio che ovviamente potranno giungere già dei dati importanti nelle prossime ore. Intervento importante è quello del presidente dell'associazione balneari di Soverato. Si tratta di Salvatore Riccio, già assessore comunale alla Giunta Mancini, che dice la violenza non trova giustificazioni e la condanniamo fermamente, però non accettiamo generalizzazioni.